Ben ritrovati in nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City, in apertura come al solito l'emergenza sanitaria con la regione Campania che ha fatto il punto sul piano vaccini, spiegando le priorità delle prossime settimane. Lungo approfondimento invece con il sindaco d'Ercolano Ciro Bonaiuto che ha raccontato i concittadini sospesi fra insofferenza per le nuove misure e speranza per i nuovi vaccini. Passiamo ora alla cronaca con la Guardia di Finanza che ha smascherato le frodi di un noto manager sportivo, fra i suoi clienti molti calciatori di serie A e sempre le fiamme gialle hanno effettuato un maxisequestro nei confronti di una azienda dedita allo smistamento dei rifiuti a Sant'Antonio Abate. In conclusione la protesta dei lavoratori del mondo dei trasporti, esclusi, spiegabilmente, dal piano vaccini. Non siamo lavoratori di serie B, vogliamo che venga tutelata la nostra salute, questo è il loro appello, questo ed altro nei nostri servizi. La Regione Campania fa il punto della situazione sulla campagna vaccini. L'unità di crisi regionale, riunitasi per un'analisi complessiva della situazione pandemica e per l'aggiornamento del piano vaccini, ha comunicato che ad oggi è stato vaccinato circa il 90% del personale scolastico e il 95% del personale sanitario. Attualmente è in corso e sarà intensificata la campagna vaccinale per gli ultraottantenni e gli ultrasettantenni. Parallelamente è già partita la campagna vaccinale riservata alle categorie fragili, come da protocollo ministeriale, con vaccino Pfizer. Per la prossima settimana è stato annunciato al commissario di governo l'invio in campagna di un quantitativo maggiore di dosi, che consentirebbe di accelerare e aumentare il numero di vaccinazioni. Per AstraZeneca, la campagna, come altre regioni italiane, è in attesa del nuovo via libera alla somministrazione a livello governativo. In relazione alla vaccinazione della categoria dei fragili, l'unità di crisi ha aggiornato oggi il piano vaccinale della Regione Campania, che sarà pubblicato sul sito istituzionale, nel quale viene confermata e integrata la procedura di adesione che riguarda tali categorie. Il dato sostanziale è che non tocca ai pazienti fragili, né ai loro conviventi o assistenti, la procedura di adesione sulla piattaforma regionale. È previsto, pertanto, che i medici di medicina generale individuino, tra i loro assistiti, coloro che appartengono alla categoria di elevata fragilità, registrandoli sulla piattaforma e certificandone lo status. Contestualmente è previsto che gli appartenenti alla categoria di elevata fragilità possono essere registrati e vaccinati dalle aziende ospedaliere o i centri regionali di riferimento che li hanno in ricovero. Si conferma altresì che da domani, mercoledì 17 marzo, sarà aperta, come già comunicato, la piattaforma per l'inserimento, da parte dei medici di medicina generale, delle adesioni dei pazienti delle categorie fragili. Lungo approfondimento, in collegamento con il sindaco di Ercolano, Ciro Bonaiuto. Il punto, ancora una volta, sull'emergenza sanitaria. A Ercolano attualmente abbiamo registrato 581 contagi, un numero molto alto, ma la mia preoccupazione non è tanto il numero dei contagi, ma la diffusione dell'ultimo periodo. In una settimana c'è stato un aumento del 10% nella differenza tra coloro che sono guariti e i nuovi contagi. Mi preoccupa perché in una città come la nostra, in cui c'è un centro storico ad alta densità abitativa, la diffusione è molto veloce, quindi dobbiamo essere attenti. Un anno che porta inevitabilmente all'insofferenza, insofferenza che porta al mancato rispetto, quelle che sono le regole essenziali, che ormai sappiamo tutti. Come funziona il sistema dei controlli? Come è stato gestito per questa nuova zona rossa? Per la struttura che abbiamo a disposizione e per le risorse che abbiamo a disposizione facciamo un lavoro enorme. I vigili urbani a Ercolano fanno un lavoro enorme. Abbiamo elevato centinaia di sanzioni, abbiamo svolto migliaia di controlli, abbiamo controllato centinaia di autocertificazioni, questo soltanto con quattro vigili per ogni turno. È la colpa, non è del sindaco, non è dell'amministrazione, non è del comando vigili. Purtroppo noi paghiamo un deficit strutturale, così come lo pagano tutte le città, soprattutto nel mezzogiorno. A livello proprio logistico, organizzativo, come si sta procedendo per la vaccinazione a Ercolano? Abbiamo messo a disposizione dell'ASL una struttura al centro della città, mi auguro che l'ASL più presto lo usufruisca, il cosiddetto centro anziani. E qual è stata la risposta dei cittadini fino ad ora almeno? Ma i cittadini sono, sono, i cittadini non vogliono sapere quando e dove si vaccinano, ma quando si vaccinano. Se in questo momento si chiama un anziano di settantaquattro, settantacinque anni, non me ne voglio a mio padre che a quell'età se scopre che io lo chiamate anziani si arrabbia. Se in questo momento chiamo un adulto di settantaquattro, settantacinque anni e lo invito a vaccinarsi, non mi chiederà dove deve andare, ma quando deve andare. Quindi i cittadini di Ercolano urlano perché vogliono vaccinarsi e vogliono tornare alla normalità. Ho due figli, Angelo e Renato, di nove e otto anni. Quando li ho vaccinati non sono andato a leggere il bugiardino. Non ho chiesto all'infermiere che iniettiava il vaccino sul braccio dei miei bambini che tipo di vaccino fosse. Mi sono semplicemente fidato della scienza e dei risultati raggiunti dalla scienza. Non capisco perché adesso tutti quanti prendono la laura su Facebook e chiedono che tipo di vaccino si inietta. Allora parlo per me, che sia AstraZeneca, che sia Moderna, che sia Johnson & Johnson, che sia Pfizer, che sia Sputnik. Io sono pronto, mi voglio vaccinare e mi fido di coloro che svolgono questo mestiere. Io vedo la luce in fondo al tunnel. Finalmente grazie al Presidente del Consiglio Mario Draghi abbiamo cambiato verso. Abbiamo un piano vaccinale. Abbiamo fatto l'accordo con i farmacisti, gli odontoiatri, i pediatri, i medici di base. Ci vaccineremo tutti velocemente con numeri incredibili di 500.000 al giorno. Che ben venga la vaccinazione di massa perché il vaccino è l'unico strumento che abbiamo per ripartire e per vedere la luce in fondo al tunnel. Io ci credo e mi auguro che ci credono anche i cittadini. professionisti, fra i suoi assistiti Di Lorenzo, Mario Rui, Yusai e Veretù della Roma. Il legale rappresentante ed altri cinque responsabili sono indagati per dichiarazione fraudolenta e demissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare il Nucleo di Polizia Economico-Finanziera di Napoli ha raccolto elementi tali da far ritenere che la stessa società avrebbe utilizzato fatture false per gli anni 2018-2019 per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, con un conseguente e legito risparmio di imposta di circa 1.600.000 euro. Il sistema fraudolento veniva perpetrato attraverso l'emissione di fatture da parte di compiacenti associazioni sportive direttantistiche per fittizie e prestazioni fornite alla società indagata e al fine di dare pervenza di effettività all'operazione la società utilizzatrice avrebbe effettuato i pagamenti attraverso bonifici sui conti correnti delle emittenti. Subito dopo le somme sarebbero state prelevate quasi sempre in modo frazionato e istituite tramite una serie di complici a rappresentante legale della società utilizzatrice. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni del valore di oltre 1.200.000 euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torrenunziata nei confronti di una società di Sant'Antonio Abate operante nel settore della raccolta dei rifiuti. A carico della società e del suo rappresentante legale sono stati sequestrati 368.000 euro di somme liquide e giacenti su diversi conti correnti e tre immobili di cui due box e un appartamento per il valore stimato di 151.200 euro per complessivi 519.000 euro. Il provvedimento ablativo è il portato degli accertamenti di natura economico-finanziaria svolti dalla Compagnia di Castellammare di Stabbia, su delega della Procura della Repubblica di Torrenunziata, avviati a seguito di un'attività ispettiva di carattere fiscale che ha permesso di accertare che le società destinatari del sequestro ha omesso il versamento di ritenute nei confronti dei propri dipendenti per lo stesso importo. La condotta illecita, oltre all'indebito di sparmio d'imposta, ha consentito alla società di collocarsi sul mercato in una posizione di assoluto rilievo e di privilegio nello specifico settore commerciale, provocando effetti distorsivi sulla concorrenza, particolarmente dannosi nell'attuale periodo di crisi economica. Ancora polemiche sui vaccini, grandi esclusi al momento dalla campagna di vaccinazione, sono ancora i lavoratori del mondo dei trasporti, nonostante lo stretto contatto che ogni giorno hanno con il pubblico. Per questo motivo Angelo Ciccone, segretario nazionale del sindacato Sat-Ursa, ha lanciato un accurato appello per tutelare la salute dei suoi colleghi. In questo momento veniamo discriminati rispetto alle altre categorie, alla quale abbiamo tantissimo rispetto come lavoratori della sanità, della scuola, della giustizia e quant'altro. Noi lavoratori del settore dei trasporti siamo stati esclusi da questa campagna vaccinale perché non la si ritiene prioritaria. Posso solamente dire che tantissimi colleghi hanno pagato di persona con la propria vita perché sono stati presenti nella piena pandemia di questo maledetto Covid-19 che definiamo un killer. Quindi non vediamo perché noi siamo stati in questa campagna non tenuti in serie considerazione per quanto riguarda la campagna vaccinale. Ed è per questo che stiamo sviluppando una serie di iniziative che parte da quella di essere una campagna informativa capillare tra tutti i colleghi del mondo dei trasporti e non solo, ma il nostro scopo è quello di sensibilizzare il mondo istituzionale su questo grande tema che deve vedere noi ferrovieri non lavoratori di serie B ma siamo lavoratori ugualmente esposti come tutti quanti gli altri. Noi siamo quei lavoratori che in un particolare momento di estrema esigenza abbiamo dato prova di alto senza di responsabilità, consapevolezze ma soprattutto assicurare ai trasporti la piena funzionalità. Quindi ecco perché noi rivendichiamo che veniamo inclusi in una campagna vaccinale in ugual misura come tutti quanti gli altri lavoratori. Invitiamo il Ministro della Sanità, della Salute, il Ministro della Salute che prende atto di questa nostra rivendicazione di essere messi in campo come iniziativa è di intraprendere una campagna vaccinale che ci tuteli come tutti quanti gli altri. Ripeto, noi non siamo lavoratori di serie B. Grazie per la cortesa attenzione, per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.